Steph, perché sono una bambina? Cosa mi è successo? Perché sono così piccola? Perché quest'oggi fare rivivrai tutta la tua vita con The Minecraft Life Ma no, Steph, ti prego, no, non voglio rivivere la vita, grazie No, Steph, non mi piacciono ste cose, per favore No, Steph, è una cosa terribile Questo è l'ingresso, ovviamente partirei da quando sei piccola, piccola, piccola come sei adesso E dovrei fare tutte le fasi della tua vita Ti prego, no E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E sono Steph, che se oggi chiama Minecraft E Fer, quest'oggi rivivrai tutta la tua vita Guardami in faccia, guarda quanto faccio paura Sono un po' misterioso, Fer Con quel vestito sì, sicuramente perché ti sta chiaramente largo Lo so, lo so, ce l'ha solo questa taglia Comunque, quest'oggi rivivrai tutta la tua vita Da qui partirai e questo piccolo tunnel sarà un pochettino, diciamo, la tua nascita Dopodiché arriverai nella prima stanza E l'unica cosa che ti voglio dire per adesso è che avrai quattro stanze da affrontare Che saranno quattro fasi della tua vita Ok Ti ricordi quando ti avevo fatto costruire un sacco di stanze senza darti troppe giustificazioni Ti avevo fatto, Fer, costruisci questo e anche questo, ti ricordi? Sì, Steph, ci ho messo 50 ore Ci ho messo tante ore, quindi sì, me lo ricordo bene Era per creare la tua vita, Fer, però non te l'avevo detto Ma come? Sì, tutto quello che vivrai l'hai creato tu stessa Non ti posso picchiare Ma tu non lo sapevi Ok È molto divertente questa cosa In ogni caso, prego, può entrare È un po' inquietante che l'hai creato io Io la seguirò e sarò silenzioso No, vai davanti No Mi metti ansia, sta dietro, vai davanti No, sarò l'assistente che sta dietro Ti spacco la faccia, vai, vai, vai Devi andare davanti, Steph Le veri e tutti questi orologi Mettila di starmi dietro che mi dai fastidio C'è pure una frase, legga, legga La vita è come uno specchio Ti sorrida Allora, devo dire che io ho fatto le stanze I corridoi Con tozzo di cartelli banalissimi Li ha fatti Steph Quindi io mi dissocio da questa cosa E anche tutte le prove Perché ogni stanza e ogni fase della vita avrà una prova a fare Quelle sono preparate da Steph Mi dispiace Andiamo Questa è la prima prova Ovviamente siamo all'asilo nido, scuola materna Ok? Ok Qua ci sono tutti i tuoi compagnetti Non sono i miei compagnetti E c'è anche la maestra No, è molto bella Ho notato che ci sono tanti giochi Siccome tutti salgono nel tavolo Ne approfitto pure io Ok, ok Tanto non mi sembra Sai che cos'è la tua prima prova, però? Eh, no Praticamente tu dovrai superare una prova, ovviamente Ah, ok Per andare avanti di stanza E quindi per andare nella fase successiva della tua vita La prima prova, ok È superare cinque indovinelli Non pensavo di poterla fare, scusami La prima prova sarà superare cinque indovinelli Che alcuni tuoi compagni ti faranno Quindi devi anche trovare i tuoi compagni Che appunto ti chiederanno un indovinello Che dovrai appunto saper risolvere Quindi inizia a provare a chiacchierare con i tuoi amichetti Beh, sì, anche la maestra Ah, ok No, la maestra ne ha già uno Esatto Mi sono andata un po' a colpo sicuro Ok Allora, che cosa ha due gobbe e si trova al polo nord? Steph Steph, secondo me la risposta giusta Un orso storto, un ghiacciaio, un cammello che si è perso Qual è la risposta giusta, Fere? Due gobbe E si trova al polo nord Ragionela Il cammello che si è perso Esatto Allora, sinceramente pensavo fosse un po' più seria Brava, grazie Grazie maestra, grazie No, la maestra aveva l'indovinello più squallido L'ho fatta apposta Comunque, continua a cercare Inizia a chiacchierare un pochettino con tutti Ah, l'ho già trovata Eh, vabbè, ma che fortuna Ce ne sono cinque in totale E questo è il secondo Ma davvero, davvero? Allora, chi si spoglia quando fa freddo? Il pinguino, l'albero, la stufetta, il fiore Questo è difficile Eh, devi ragionare un po' Chi si spoglia quando fa freddo? Dai, che è facile L'albero Perché cadono le foglie in autunno Esattamente Ah, è brava, grazie Ok Adesso secondo me è questo bambino qua Ah, dici quello nell'angolo Eh, no Lui no Lei, la zeccata Ma dai, non sono così difficili da trovare Allora, sa rispondere a qualsiasi domanda e ogni lingua Ok Questa è difficilissima, eh Qua mi è venuta, secondo me, la versione migliore Sa rispondere a qualsiasi domanda Eeeh Sa rispondere a qualsiasi domanda e ad ogni lingua Ok Un genio, per forza No, perché un genio non sa tutte le lingue del mondo L'eco ti risponde Non vuol dire che risponde alla domanda Ma ti risponde Ok, mi hai dato molti suggerimenti Non aveva troppo senso Perché l'eco non risponde Allora, diciamo che sarà così, Fere Prima fase Sono gentile Perché sei piccolina, piccolina Comunque comunque il traduttore mi è piaciuto Lo so, seconda fase, sarò cattivo Anche perché la scuola è cattiva, Fere E ci sono dei test che tu odi tantissimo Comunque siamo a tre indovinelli su cinque Te ne mancano altri due Dovrebbe essere un maschietto e una femminuccia, se ricordo bene Inizia a chiacchierare con tutti e trova Esatto, a chiacchierare a casaccio Trovato il prossimo, Steph Allora, una stella che non splende La stella marina La stella che non vediamo La stella disegnata La stella nana Ok Questa è facile, perché non mi sono venute risposte decenti La stella marina Esatto La stella marina Perché le risposte erano troppo, capisci? E lo so, ma cosa potevo pensare con una stella che non splende? Era difficile trovare delle alternative alla risposta giusta Mi è venuto un dubbio Erano quattro o erano cinque? Forse è questa che gira nel tavolo Non lo so, Steph Quanti ne abbiamo fatto? Sai che forse... No, sai che forse gli indovinelli totali erano quattro E quindi forse si cercano un indovinello che non esiste Non mi ricordo È colpa del vestito che è troppo largo Che ti fa diventare tonto, Steph È la prima volta che faccio questo lavoro Sono un pochettino... Mi devo inventare Ma licente, cosa noti in questo corridoio, Fere? Che diminuiscono gli orologi Esatto Perché prima c'erano quelli giganti Mi sai dire come mai? Non lo so, Steph Perché il tempo passa e noi cresciamo Esatto Avrei sempre meno tempo a disposizione per cambiare la tua vita Perché questa mappa è basata su quello, Fere Non è mai troppo tardi per essere quello che sareste potuti Eh? Eh? Ti senti ispirata, Fere? Io ho fatto le stanze I cartelli sono opera di Steph Allora Se li fanno schifo Allora Stai lì Che c'è? Non puoi entrare qui Certo che posso entrare Finché non cresci abbastanza Sono già pronta Ma vai, ma... Questa stanza è magica, Consolini Quella stanza è davvero magica Allora, benvenuta, credo, nel posto in cui tu hai odiato di più in tutta la tua vita La scuola Ok? Perché a scuola non andavo d'accordo quasi con nessuno, capisci? Allora Quindi stati anni brutti, Steph Fere odiava la scuola, Consolini dovete sapere E odiava anche certe materie Dato che Steph non è una persona cattiva Non gli ha mica messo dei test su delle materie che odiava No, gli ha messo le sue materie preferite Matematica e geografia Sei felice? Allora, io nella mia scuola praticamente neanche la facevo geografia Perché io non l'ho mai fatta Quindi non so perché hanno deciso di toglierla Ci divertiremo molto Quindi non rompere a me se poi non so le cose Perché io l'ho fatta solo all'elementare la geografia Venga con me Questa volta però non ha bisogno di socializzare Quindi una buona notizia secondo me c'è Questa è una bella cosa Però Mi piace che ognuno si faccia gli appariti Dato che ormai è già adolescente Steph non l'aiuterà più Io glielo dico Partiamo con il professore di geografia No, ma invece Steph Scusa un attimo Sì Quindi ci si aiuta di più Non è male Vedrò quanto è in difficoltà durante il test Non sei d'accordo Vedremo quanto è in difficoltà Allora, professore di geografia Prima domanda Legga pure Allora, aspetta Devo leggere tutto Salve signorino Già l'interrogatorio di geografia Ha studiato? No Spero di sì Prima domanda Qual è la capitale degli stazioni di New York Los Angeles Washington Che è Chicago Ok Vabbè, questa è abbastanza semplice Ovvero? Washington Ok Per forza Anche se poi magari New York Ti può un po' trarre New York può trarre in inganno Perché è più famosa È più famosa Poi Los Angeles e Chicago Secondo me no per forza Però adesso ci divertiamo un po' Qual è la capitale della Cina? Shanghai Pechino Kong Canto non so Meglio, meglio, meglio Pechino Allora, sicura? C'era Pechino Express Che era ambientato in Cina Quindi per forza Ma lo sembra che lo chiami Pechino Express Quando l'hanno mentato Prema quel Pechino Gli ho messo ansia Giusto Non mi far confondere Perché ce la posso fare Ha studiato parecchio La prossima sarà più complicata Qual è la capitale della Svezia? Stoccolma Oslo Helsinki Copenhagen Allora, Helsinki Sinceramente L'ho sentita Ma no Non è una capitale Io direi Stoccolma Anche se Copenaghen è pure molto famosa Stoccolma Ok Sto andando tutto a casaccio Stef La cosa più bella è quella Perché nelle capitali Faccio davvero schifo Quarta e ultima domanda Questa la sbaglia Se risponderà correttamente Anche questa domanda Avrà finito il test Qual è la capitale della Turchia Ma è Istanbul 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 E Istanbul Allora, le altre Avresti pensato Instable tutta la vita Perché trae un inganno E invece E invece no E invece no Sì, 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 sì È più formale Iniziamo con la radice quadrata E 36 Non la so Dai, Fede Le radici quadrate Sono facilissime No, non mi ricordo È la domanda più semplice Che ti fai Io te lo dico Come funziona la radice quadrata? Non me lo ricordo Come faccio a ricordarmelo Secondo te Allora, scusami Uso la calcolatrice Da una vita Ormai faccio tutto a mano Se usi Fai la tabellina dell'8 Quindi è l'8 Ma per favore Mi è ingannata Stiamo facendo un discorso 8, 16, 24, 32 32, 40 Il 36 Non ci passi neanche per sbaglio Quindi l'8 Se invece fai 6 per 6 Fa 36 Quindi la radice quadrata Ah, bravo Sì, bel ragionamento Vai Ok Vai Legga pure Molto bene Quante domande sono Prima di tutto Quattro Ora che ci siamo riscaldati Voglio sapere La radice quadrata di 81 Per lo stesso ragionamento Quindi No, non le capisco Stef Mi dispiace 9 per 9 81 Fai 90 Meno 9 Ah, ma devo solo fare per per Scusami La radice quadrata è quello Moltiplichi per lo stesso numero Un numero Quindi 2 per 2 è 4 Ah, è normale, sì Ok Quindi 9 Fere, queste non le parti semplici Ora iniziano le cose complicate No, no, queste non le faccio Arrivederci 9 più 12 Meno 4 diviso 2 Più 22 per 3 Troppo complicata Beh, infatti ci sono solo due risposte invece che 4 Perché almeno compensiamo un po' Vado a casaccio 85 Bene Ce l'hai decata Complimenti Non si ha vergogna Dai Stef, era un calcolo lunghissimo Dovevo mettermi a fare prima le moltiplicazioni Le divisioni E vabbè Quell'addizione La sottrazione E quindi la finivamo Questo me lo fai però Non lo spari a caso Ok Lo conosci? È il classico giochino Dei moltiplicare per 2 4 per 2 fa 8 8 per 2 fa 16 Ok 32, 64, 128, 256 512 Oh Questi sono più semplici Perché sono di logica Capito? Quelli di logica mi piacciono Ce l'hai fatta Te sei superato E hai recuperato anche il tuo bellissimo 4 Che ti hai ripreso la scorsa volta Ok Dato che non avevi studiato E anche questa fase Fere è completata Ok E ora di andare avanti Cosa noti? Per fortuna Ancora meno Aspetta chiudiamo la porta Ancora meno orologi Stef Eh già Questa volta scarseggiamo davvero Perché siamo arrivati alla fase adulta Fere Quando sei un adulto ormai il tempo scarseggia E ci sono delle bellissime frasi Non permettere alle tue ferite Di trasformarti in qualcuno Che non sei Eh Stef Non trasformarti in qualcuno Che indossa un abito più largo Di quello che gli sta Mi raccomando Guarda che ti chiudo qua eh Non ti faccio andare alla fase successiva E la fase successiva È l'unica che ti piace Esatto Perché comunque Se ho finito la scuola Si arriva alla fase del lavoro Esatto Però non è YouTube È la fase che io preferisco È una Diciamo Versione ipotetica Della tua vita Perché YouTube era troppo complicato Da ricreare No bene E quindi abbiamo fatto una versione ipotetica Però non puoi guardare Allora Come sempre Non puoi venire finché non cresci Quindi io ti chiudo tutte le porte E aspetto che arrivi Ciao Stef Sono già pronta Perché io sapevo Quale sarebbe stato il mio lavoro Ovviamente È la mia vita Quindi lo so Stef E mi sono preparato in modo adeguato Un camice normale da cucina? No 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 Vabbè Comunque Consolini Siamo nella pasticceria di Fere Questi qua Sono tutti dei clienti Che stanno aspettando Che Fere gli serva il suo cibo Quindi lei Quest'oggi Dovrà lavorare Andare da ogni cliente Vedere che cosa chiedono E venderglielo Non è fantastica sta pasticceria Stef? Beh è carina Devo dire che te la sei fatta davvero carina È molto bellina Sì Idealmente rispecchia il mio posto ideale Questo è vero Questa è una bella parte della vita Stef È pronta a lavorare? Sì Dovrà servire tutti i clienti almeno una volta Per poter andare alla fase successiva Allora Vuole una ciotola di caramelle colorate Esatto Queste qua Qui abbiamo tutta la merce che Fere potrà utilizzare Quindi vendi quello Ma come glielo do scusami? Devi premere No Fere tienilo nell'inventario Non sa fare questo lavoro Ah e prendo Esatto Lo smeraldo Perfetto Perfetto Eh vabbè Stef è la prima volta che lo sto facendo Come hai detto tu e io faccio la YouTube Non faccio la pasticcera Eh lo so ma hai aperto la tua pasticceria Se dovevi imparare facevi Capito Lavoravi Questo è un sogno Noi stiamo sognando Non è vero Io idealmente devo imparare a fare questo lavoro No Non stiamo sognando Sì che stiamo sognando Non stiamo sognando Una torta di compleanno per tre smeraldi Stia attenta perché ci sono diverse torte di compleanno Ha controllato bene quale voleva? Questa la torta di compleanno Sì ma c'è quella al cioccolato e quella alla panna tra virgolette perché è bianca Eh no è andata è andata Ok ha fatto È felice felice quindi sì Mi sembra che sia andato L'altra signorina cosa vuole? Allora ciotola di caramelle Vediamo se riesco a ricordarne più di una Torta normale di Minecraft E anche l'altra torta normale Torta normale di Minecraft Quindi due torte e una ciotola di caramelle Ok torta Torta e ciotola di caramelle colorate arancioni Si sta abituando a fare questo lavoro Lo sai che sono nata per questo Lo sai Stef Ok uno Due Due Ecco qua Ok E poi chi era lei? Sì è andato tutta roba Ti è rimasta giusto una torta da tenere Guarda Stef Tutto il mio guadagno Oh 21 smeraldi Fere Eh sì Eh sì Ok brava Stef No devo spiegarti Tu non hai fatto nulla Non sei vestito da torta come me Allora Quindi smettila Hai lavorato solo nella tua vita Ok La prossima porta Porta in quel bellissimo È la pensione Stef Casetta con pensione Qualcuno la dovrei pur pagare Quindi Stef si porta a casa gli smeraldi La pensione secondo me è il momento più bello della tua Sono prontissima ad essere pensionata Ho paura Mi vedi? Sei bruttissima Non è vero Sei carina Mi starebbero bene anche i capelli grigi No per niente Forse li devo tenere così Non ti piace? No 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 Guarda come mi stanno bene anche dietro No 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 Non mi piaci per nulla In ogni caso mi hai pagato tanto Perché hai lavorato solo per riuscire a comprarti questa casetta Però ne varrà la pena Perché è la casa dei tuoi sogni Entra C'era già qualcuno che sbocava Aspetta non riesco a neanche entrare Oh mio Dio Stef Ci sono tutti i miei animali preferiti Allora ci sono i cani Dolci e animali Anche se sono in realtà dei lupi Ci sono i gatti Anche se in realtà sono degli osselot Poi pipistrelle e maialini Sono i miei animali preferiti E oltretutto tanti dolci Perché mi sembra giusto Dopo aver poi lavorato come Esatto Pasticciera negoziante Esatto E giusto che abbia la casa piena di dolci Quindi Hai superato tutte le fasi della tua vita Adesso finalmente ti puoi riposare E rilassare Nella tua casetta Hai visto che c'è qui? Corona Sei pronta? Sì sono pronta Perché qui abbiamo un'ultima porta Che è un corridoio gigantesco Ma fa paura Stef Non si sa nulla Vai 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 Lo so è un po' stretto È un po' stretto Però ne vale la pena Ok Ok vado Sì 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 Sei sicuro Vai Fere Vado Io rimango qua Non posso venire oltre a questo posto Sono incaricato di accompagnarti fino a quella porta Eh ma dai vieni fino all'ultimo Noi abbiamo fatto tutto il viaggio a sé Eh no Fere purtroppo non posso venire È proprio l'unico ordine che mi è stato dato Allora in pratica Oggi mi hai rifatto fare la mia vita Mi hai derubato dei miei smeraldi E poi neanche mi accompagni fino alla fine Beh Fere ti ho dato una bellissima casa In casa con animali dolci Non ti ho derubato Beh dai no alla fine hai ragione È giusto comunque istruire le persone Sui truffatori Che si possono incontrare nella vita È una bella lezione Apri quella donna da porta Guarda ti spacco la casa Altrimenti Ciao Stef Ciao Fere Beh ragazzi Se non ci siete Lasciateci un like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao